Salve a tutti, è con piacere che questa sera do il via alla nuova serie di questi incontri webmeeting che Federdolore sapete ormai dall'anno scorso ha cominciato ad organizzare in vista del congresso nazionale ma soprattutto per poter offrire la possibilità ai soci e a tutti i colleghi giovani, giovanissimi colleghi che si collegano sui sul nostro canale YouTube e sulle dirette di Facebook per poter eseguire degli incontri tematici su quelli che sono i motivi che ci portano a lavorare nei nostri centri di trepe del dolore, quindi qualcosa che sicuramente ci accomuna e che deve essere un patrimonio di tutti. E' con altrettanto piacere che questa sera vi presento in anteprima anche il lancio del congresso nazionale 2020 della nostra società scientifica Federdolore CCD che come vedete si tenerà a Milano dal 21 al 23 ottobre del prossimo anno. Saranno tre giornate molto intense di cui la prima sarà completamente dedicata a un'attività di formazione, la chiameremo giornata Federdolore Giovani, sarà dedicata in particolar modo a tutti i colleghi specializzanti di anestesia ma non solo, anche di altre specialità e tutti i giovani, giovanissimi medici in formazione. Quindi sarà una prima giornata di preparazione sia teorica che pratica, anche con la possibilità poi tramite simulatori, tramite ecografi e quant'altro di poter applicare anche delle metodiche attinenti al nostro settore della terapia del dolore. Detto questo vi introduco un po' quello che sarà l'argomento che terrà un po' piazza in questi primi mesi dei nostri collegamenti web meeting, che sarà il tema della neuromodulazione in generale, in particolar modo dei sistemi che utilizziamo, quindi con i device totalmente impiantati. Come sapete sono passati ormai 50 anni, stiamo festeggiando in un certo senso i 50 anni di storia della neurostimolazione nel mondo. Questi 50 anni hanno visto passare un'evoluzione anche importante da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista procedurale, chirurgico, ma non solo, e anche su quelli che sono gli approcci alla selezione del paziente candidato a impianto di stimolatore midollare o stimolatore periferico. Ecco, in questi primissimi incontri quindi affronteremo un po' questo tipo di tematica, alla luce anche delle nuove, delle nuovissime tecnologie. E quella di stasera vuole essere una primissima introduzione, se volete anche di tipo storico, per cercare di mettere l'occhio su quelli che sono stati questi 50 anni trascorsi nella storia della neurostimolazione. Per capire appunto come si è sviluppata, come si è evoluta e guardando anche un po' su quello che potrà essere il futuro della neurostimolazione, che sicuramente ci aspetterà dei risultati molto importanti dal punto di vista clinico, parallelamente a quelli che sono gli sviluppi di tutta la tecnologia, della tecnologia biomedicale, che chiaramente è dietro e che si sviluppa, si è sviluppata e si svilupperà ancora di più nei prossimi anni. Pensando un po' ai millenni trascorsi, noi dobbiamo sempre tenere presente che l'utilizzo delle correnti elettriche non è un qualcosa che per quanto moderno, per quanto noi facciamo in maniera altamente tecnologica oggi, non è un qualcosa che abbiamo inventato noi nei nostri giorni, è un qualcosa che fa parte della storia. Si trovano ancora nelle piramidi egizie dei graffiti raffiguranti la torpenina di mare, che veniva utilizzata dai nostri precursori antichi egizi come un sistema che poteva erogare una corrente, che veniva applicata appunto sulla zona del dolore, lo usavano nelle cefalee, nella gotta. Ecco, quindi l'idea di usare la corrente su un'area corporea è un qualcosa che veramente fa parte della storia dell'uomo e si perde nei millenni. Poi è chiaro che nei tempi il tutto ha cominciato a prendere dei crismi di maggiore, se vogliamo, in un certo senso scientificità. Per arrivare a questo abbiamo dovuto aspettare molto e siamo arrivati alla metà degli anni del 1800, quando si sono cominciati a vedere nuovi strumenti, dei sistemi che comunque cominciavano ad avere delle tecnologie, per quanto rudimentali, ma che comunque già focalizzavano l'attenzione nel produrre un sistema in grado di replicare delle correnti, delle stimolazioni sul corpo. E sarà poi nel 1871 che vedrà alla luce una prima pubblicazione che ha rappresentato un pochino, in un certo senso, la Bibbia per la medicina, quella parte di medicina che guardava all'uso delle correnti elettriche come uno strumento di tipo terapeutico, che chiaramente in una primissima fase si poggiava su ipotesi, ipotesi poco suffragate da studi scientifici, perché in quel momento ancora non c'era il concetto moderno di studio scientifico, però si cominciavano le primissime esperienze che poi di fatto hanno rappresentato le fondamenta sulle quali è cresciuto l'idea, lo sviluppo di creare una scienza che si basava, la scienza medica, che si basava sull'utilizzo delle correnti elettriche e dell'elettricità. Sarà poi la metà degli anni Sessanta che rappresenterà in un certo senso la pietra miliare della moderna neuromodulazione. 1965, l'anno in cui venne pubblicato su Science, questo articolo di Mel Zuck-Wall, noti ricercatori, noti scienziati che postularono l'ipotesi del famoso teoria del cancelletto. Teoria che poi ha portato avanti, ha fatto sviluppare anche altri studi molto importanti e che vedremo poi successivamente, una teoria che ha delle basi scientifiche importanti e che ancora oggi noi utilizziamo per cercare di capire, di orientarci su quelli che sono i fini meccanismi che stanno alla base dell'impiego delle correnti elettriche per il controllo del dolore. Sarà poi nel 1967 che si ha la prima pubblicazione di uno studio, uno studio importante di Wall & Sweet che per la prima volta dimostrano come l'applicazione di uno stimolo elettrico, uno stimolo innocuo su un nervo ben preciso era in grado di poter ridurre la percezione del dolore in quell'area interessata dall'innervamento del nervo stesso. Quindi un primo studio che cominciava a mettere le basi importanti per quello che poteva essere e che poi sarà l'inizio della neurostimolazione in particolare in modo della neurostimolazione periferica perché quella è stata la prima nata nel mondo della neuromodulation. Poi dopo si svilupperà anche la stimolazione midollare che oggi conosciamo. Quindi ecco vedete siamo alla metà degli anni 60 e questo è il momento in cui possiamo definire veramente il battesimo della neuromodulation intesa nel senso moderno che noi oggi ben conosciamo. Da quel momento quindi avremo lo sviluppo di una nuova frontiera molto interessante, molto promettente, che in questi 50 anni che ci separano dall'origine possiamo identificare in tre periodi storici fondamentalmente. Di cui il primo periodo storico è quello che va appunto dalla nascita alla metà degli anni 60 con Mezzacke Wall, con la teoria del cancello fino alla metà degli anni 80, fino al 1985, periodo nel quale chiaramente si cominciano a muovere i primissimi passi nel campo della neuromodulazione. Siamo ancora di fronte a delle esperienze di tipo quasi sperimentale dove chi lavora rappresentano veramente dei pionieri in questo senso quando ancora molte immagini che raffigurano i primi ricercatori che lavorano nei garage, nei box in mezzo a strumenti ancora tecnologicamente non avanzati, però le primissime esperienze erano veramente di tipo pionieristico. In questo periodo si cominciano anche in alcuni ospedali, in alcuni centri a fare le prime esperienze chirurgiche con l'utilizzo appunto di sistemi anche se molto rudimentali e semplici, applicandole appunto a pazienti su nervi periferici per cominciare a provare a fare esperienza clinica sulla patologia dolore, in particolar modo grazie all'uso delle correnti. E' chiaro che in questa fase non siamo ancora di fronte anche ad un interesse come dire commerciale per cui alla fine gli strumenti che hanno utilizzato i nostri colleghi pionieri di questi decenni erano strumenti molto semplici. Ancora non c'era una produzione da parte delle aziende di sistemi più sofisticati o comunque sia con un ventaglio di scelta per quanto riguarda gli equipaggiamenti da usare in sala operatoria e negli impianti. Quindi pochi pionieri che cominciavano a muoversi in maniera veramente quasi sperimentale con sistemi molto semplici. Questo era quello che aveva caratterizzato questo primo ventennio nell'inizio della storia della neuromodulation. Possiamo poi ecco identificare un secondo periodo che va dalla metà degli anni 80 fino alla fine degli anni 90 fondamentalmente. Periodo nel quale chiaramente dato il forte interesse che la neuromodulazione stava cominciando a suscitare di fronte anche ai iniziali risultati che talvolta non sempre brillanti perché chiaramente non c'era ancora il concetto di selezione del paziente che oggi conosciamo, però c'era un entusiasmo da parte di chi cominciava a lavorare in questo settore e quindi in maniera parallela anche le aziende, le industrie del settore, cominciarono a produrre degli elettrodi, dei sistemi sempre più efficaci. Quindi si cominciava in questo momento ad allargare il ventaglio dei materiali messi a disposizione anche dalle aziende. Era un periodo che fondamentalmente però dove il soggetto principale era il chirurgo come figura, per cui anche tanti approcci per quanto riguarda la stimolazione periferica o midollare erano di tipo chirurgico. Ancora non era sviluppata la figura che oggi ben conosciamo dell'algologo anestesista e quindi di un approccio diverso da quello a cielo aperto, come invece sono chiaramente abituati a fare i colleghi di estrazione chirurgica. Quindi questo fondamentalmente era il secondo periodo di grande sviluppo e di forti entusiasmi. Poi andiamo verso il terzo periodo di questo cinquantennio che ci separa dagli anni Sessanta, che è quello che parte di fatto dall'inizio del 2000 fino ad oggi, direi questo ventennio. E questo ventennio è stato caratterizzato da una parte da una presenza che si è fatta sempre più importante per quanto riguarda le figure dell'anestesista e che quindi comportava un concetto di minima invasività. Quindi siamo andati sempre di più verso una tecnica che non era chirurgica ma era percutanea, quindi in un certo senso grazie anche allo sviluppo degli ecografi, allo sviluppo di sistemi chirurgicamente sempre meno invasivi, siamo andati verso una preponderanza della presenza della figura da anestesista che diventava allargologo. Dall'altra parte questo ventennio si è caratterizzato sicuramente per il grande e fortissimo sviluppo tecnologico, tant'è che negli ultimi cinque anni abbiamo visto lo sviluppo anche di nuovi device assolutamente anche rivoluzionari in un certo senso, vedremo dopo perché, per quanto riguarda le modalità di erogazione di particolari e di nuove correnti di campi elettrici che fino ad ora ancora non avevamo potuto utilizzare perché non erano entrati nella pratica e nell'uso quotidiano delle nostre esperienze da impiantatori di device. Quindi ecco le aziende, le industrie hanno prodotto sistemi che erano sempre più efficaci anche nel controllo del dolore e quindi di fatto noi anestesisti, noi algologi, in questi ultimi sei anni abbiamo a disposizione una serie di strumenti molto importanti che ci danno parecchi vantaggi rispetto ai decenni trascorsi. Quando parliamo di un sistema di neurostimolazione noi parliamo sempre di un insieme fondamentale di un generatore di impulsi elettrici totalmente impiantato, oppure vedremo secondo una tecnologia diversa che è la tecnologia wireless dove la fonte di energia di fatto non è all'interno del corpo ma è esterna e trasmette il segnale con modalità in radiofrequenza all'interno del nostro organismo. La parte che sicuramente è impiantata è quella dell'erogatore dell'elettrodo che è la parte terminale del sistema di neurostimolazione che può essere allocata a seconda se parliamo di stimolazione periferica o stimolazione midollare sul nervo periferico o nelle immediate vicinanze a seconda della tecnica che viene utilizzata e sul midollo spinale. Oggi poi parleremo anche in realtà di nuove modalità, di nuove tecnologie per cui non si va più solo sul midollo spinale ma si può anche andare sulla radice del ganglio dorsale che è una tecnologia, una nuova metodica di stimolazione di questi ultimo decennio e che sta dando dei risultati molto interessati e poi vedremo anche questo in futuro, affronteremo in maniera molto più dettagliata. Nell'insieme quando noi pensiamo di andare a utilizzare la tecnica di neuromodulazione dovete sapere che usiamo dei sistemi che erogano di fatto un campo elettromagnetico, quindi noi attivando delle polarità dei nostri elettrodi impiantati riusciamo a creare questo campo che di fatto va a seconda del target, se midollare o se sul nervo periferico, a interagire con la conduzione e dello stimolo e vedremo poi quali sono le diverse teorie che sono alla base del perché funziona la neurostimolazione nel dolore e vedremo poi in quale tipo di dolore in particolar modo. Quindi sono passati 50 anni, 50 anni che hanno visto uno sviluppo e un cambiamento anche delle modalità, delle correnti di stimolazione che noi in questo mezzo secolo abbiamo utilizzato. Dagli anni 60 abbiamo utilizzato per diversi decenni fino agli ultimi dieci anni una modalità che si chiama modalità tonica, una modalità cosiddetta dove il paziente percepisce il formicolio, la stimolazione, la parestesia erogata dal generatore. Oggi poi abbiamo correnti che vengono effettuate con tecnologie diverse dove il paziente non percepisce il formicolio o la stimolazione. In realtà quali sono i meccanismi che sono alla base dell'efficacia della neurostimolazione? A questa domanda non abbiamo ancora delle risposte esatte, le nostre risposte si basano ancora su teorie sicuramente largamente accettate e che hanno dei fondamenti molto importanti. Ancora è una sorta di puzzle la nostra risposta, cioè ci sono più teorie che messe insieme ci danno il quadro del perché funziona la neurostimolazione. Quindi parliamo di diverse modalità di correnti. Oggi in tempi moderni parliamo di high frequency, quindi parliamo di 10 kHz, parliamo di tecnologia BAST che ha delle impostazioni ancora diverse. Ecco, quello che distingue appunto queste ultimissime modalità di erogazione di correnti è appunto l'essere parestesia free o comunque sia molto vicini al fatto che il paziente non percepisce la sensazione della parestesia data dal generatore. Il generatore eroga quindi correnti e queste correnti interagiscono sul dolore. Fondamentalmente nella storia di questi 50 anni abbiamo capito che il target principale della neuromodulation è il dolore neuropatico. Il dolore neuropatico è sicuramente l'indicazione in assoluto principale della neurostimolazione. Questa lo è stata in assoluto per quando nei 50 anni passati abbiamo utilizzato la stimolazione tonica. Oggi con le nuove stimolazioni, in particolar modo con l'alta frequenza, la BAST può essere considerato anche rispondere in un certo senso il dolore anche di origine non schiettamente neuropatico e questo comunque è ancora campo di ricerca e poi dimostrazione che però si è sicuramente dimostrato le ultime tecnologie essere assolutamente superiori rispetto alla stimolazione tonica che abbiamo sempre usato nei dieci anni passati. Quindi parlando di dolore neuropatico parliamo di un quadro dove noi abbiamo a che fare con la ipereccitabilità dei neuroni wide dynamic range. Neuroni che sono di fatto i responsabili del dolore neuropatico nel momento in cui appunto subiscono un sovvertimento e danno un aumento, quindi un rilascio di aminoacidi eccitatori come il glutammato e agiscono in maniera disfunzionale sul sistema gavaergico. Quindi questo è il quadro del dolore neuropatico sul quale il nostro campo elettrico dello stimolatore andrebbe ad agire e dare i suoi effetti diciamo di tipo positivo. E allora che cosa fa la stimolazione quando noi la utilizziamo sul quadro di iper-eccitabilità neuronale del dolore neuropatico? Di fatto va a dare una sorta di inibizione a livello di questi neuroni dei VDR che sappiamo essere dei neuroni iper-eccitati e sappiamo anche essere neuroni strutture molto importanti per quanto riguarda la via di trasmissione del dolore dalla periferia fino al centro. Quindi sono dei target, questi sono i target del nostro neurostimolatore. Quando noi andiamo appunto a determinare il campo elettrico a stimolare quindi su questi neuroni che cosa succede? Succede che si ha un ristabilimento del sistema GABAergeo in un certo senso con una riduzione di quegli amminoacidi che vanno invece ad agire in maniera negativa sul quadro della neuropatia. Quindi questo di fatto è l'effetto della neurostimolazione. Effetto che è stato poi ipotizzato nella storia e anche in tempi moderni fondamentalmente da due principali teorie di cui la prima è quella del interneurono inibitore che verrebbero attivati dalla teoria cosiddetta conosciuta come teoria del cancello di Merzak e Wall degli anni Sessanta e che poi vedremo in maniera un pochino più approfondita. L'altra teoria sulla quale ci basiamo di fatto anche per spiegare i meccanismi di funzione della stimolazione è quella che noi in un certo senso andiamo ad attivare dei centri sovraspinali che determinano degli input inibitori discendenti periferici che quindi vanno a interagire con il dolore. Ecco qui vedete l'immagine del nostro elettrodo posizionato a livello delle corna posteriori del midollo spinale quindi qui stiamo parlando di stimolazione midollare. Stimolatore che di fatto quando va a erogare la corrente non fa altro che stimolare l'interneurono inibitorio che si trova a questo livello il quale interneurono inibitorio blocca di fatto chiude come si suol dire il cancello e blocca di fatto la trasmissione dello stimolo doloroso che in caso contrario quando l'interneurono inibitorio non è attivo in caso contrario passerebbe e quindi passerebbe dalla periferia fino al centro dove poi noi avvertiamo la sensazione soggettiva del dolore. Quindi questa è la teoria che sicuramente storicamente più importante che è ancora un peso molto importante. L'altra quindi si basa sempre sul fatto che il nostro elettrodo posizionato nella solita zona va a determinare sulle vie ascendenti del midollo spinale un segnale elettrico, un input, un messaggio che viene portato ai nuclei della base i quali nuclei a loro volta producono un segnale di risposta che a questo punto però è un segnale tipo inibitorio che discende dal centro fino alla periferia e quindi va a determinare una modulazione in un certo senso dell'input doloroso. Questo è quello che noi abbiamo sempre conosciuto sulla stimolazione tonica. Oggi come vi ho anticipato poco fa abbiamo a disposizione nuove tecnologie moderne di stimolazione tra le quali una è questa, la stimolazione cosiddetta in alta frequenza a 10 kHz. Questa è una stimolazione molto interessante, nasce da questo lavoro che viene pubblicato nel 2012, un lavoro sperimentale su cavia che andò a dimostrare come applicando uno stimolo elettrico a 10.000 Hz, quindi a 10 kHz, si riesce di fatto a bloccare la trasmissione del dolore. Questo vedete nell'immagine, è una registrazione di potenziali di un neurone sotto stimolo doloroso, quindi quelli che vedete all'inizio sono gli spike dolorosi, in questo caso la cavia era senza, era stimolata per il dolore e lo stimolatore era spento. In questa registrazione invece la cavia era sempre sotto dolore perché veniva stimolata e lo stimolatore era stato acceso, vedete sono spariti di fatto gli spike dolorosi di registrazione. Questo voleva dire che la stimolazione in alta frequenza andava di fatto a bloccare la trasmissione di questo tipo. È chiaro che questi sono esperimenti su cavie, poi sono succeduti lavori scientifici importanti anche pubblicati in letteratura che hanno dimostrato la superiorità di questo tipo di stimolazione rispetto alla stimolazione tonica che abbiamo usato nel primo cinquantennio, nei primissimi decenni di questo periodo della neuromodulation. Quando è questo caso, quando veniva spento lo stimolatore, invece ritornavano gli spike di risposta al dolore. Questo è uno studio che abbiamo pubblicato nel 2017, uno studio multicentrico che metteva in luce un aspetto molto interessante che per la prima volta in realtà è stato visto perché storicamente la neurostimolazione era importante che il paziente la percepisse al di sopra, esattamente al di sopra della zona del suo dolore. Con le nuove tecnologie, in particolar modo con l'alta frequenza, come vedete in questa immagine, in realtà la zona dolorosa che vedete in rosso e la zona parestesica che vedete in blu non si sovrapponevano, eppure il paziente aveva beneficio dalla stimolazione. Questo è stato quindi, i 10 kHz, in realtà una grossa novità che ha per certi versi anche stravolto quello che è stato il mondo della neuromodulazione, perché ha dato dei risultati molto importanti e con il grosso vantaggio per il paziente di non percepire la parestesia, di non percepire il formicolio, quindi con un comfort anche per il paziente assolutamente superiore. Qui vedete il risultato di questo studio che avevamo pubblicato, tra l'altro appunto che dimostrava come i pazienti che avevano il risultato migliore, li vedete tutti a sinistra nell'asse del pen relief, vicino a 100, e i pazienti con l'overlap, cioè la sovrapposizione tra la parestesia e il dolore, li vedete tutti a destra, vedete come i pallini si concentrano, la massa dei pazienti si concentrano tutti verso un alto pen relief, quindi verso sinistra, e quindi non c'è stata mai la necessità di sovrapporre l'area parestesica con l'area dolorosa. Questa è stata una grossa novità nel campo della neuromodulazione rispetto proprio ai decenni, quando questa tecnologia ancora non esisteva e oggi ci dà dei vantaggi molto importanti. Un'altra tecnologia assolutamente, direi, moderna di questi ultimi anni è stata anche la tecnologia Baste. La tecnologia Baste è un linguaggio, in realtà il nostro organismo ha due lingue con cui parlano i neuroni, parlano in modalità tonica e parlano in modalità Baste, cioè con dei pacchetti di impulsi. Quindi questa tecnologia è andata di fatto a mimare una modalità di trasmissione del sistema nervoso e quindi abbiamo utilizzato questo tipo di corrente di stimolazione con queste impostazioni proprio per essere più vicini alla trasmissione naturale. Cosa ha aperto questa tecnologia Baste? Ha aperto una strada molto interessante con gli studi di neuroimaging. Si è visto che questa modalità non agisce solo sulle vie laterali a livello cerebrale, ma anche sulle vie mediali. Questo cosa vuol dire? Di fatto la via laterale controlla quello che è la percezione del dolore in maniera generale, mentre la via mediale ha un controllo molto importante da un punto di vista emozionale, cioè sulla risposta emozionale e l'attenzione allo stimolo doloroso. Questa è una cosa, la stimolazione mediale, che la vecchia modalità di erogazione dei decenni passati non permetteva di fare. Quindi questa è stata la grossa novità di questa modalità di stimolazione che anche questa si è dimostrata negli studi clinici effettuati in questi anni, decisamente superiore come efficacia rispetto alla stimolazione tonica, quindi alla vecchia stimolazione. Ora, tutte queste modalità che vi ho detto, la bassa, l'alta frequenza, chiaramente non sono entrato in merito alla parte clinica, perché faranno parte poi di serate, di incontri, dove approfondiremo le varie tematiche, quindi ci sarà un prossimo incontro dove parleremo di stimolazione ad alta frequenza, e quindi vedremo tutti gli studi che sono stati effettuati, quelli che sono state le risposte e tutto quanto, come faremo un incontro anche sulla stimolazione BAST e così su tante altre metodiche di stimolazione in modo di approfondire e di non comprimere in una sola serata tutto il mondo della neuromodulazione, che ovviamente è un settore molto ampio, molto in crescita, quindi necessita di essere affrontato anche in maniera tematica sulle diverse modalità. Apriamo ora invece un settore che in un certo senso è l'oggi, però sicuramente ha un lancio, uno sviluppo in quello che potrà essere anche lo sviluppo futuro di tutta la neuromodulazione, vuole dire la tecnologia wireless. Se la tecnologia wireless è nata in questi ultimi anni, direi che sta ancora crescendo fondamentalmente perché l'esperienza sta maturando e anche a livello di aziende stanno sempre di più progettando e modificando in parte i sistemi di prima, di seconda e di terza generazione che si stanno succedendo in questi ultimissimi anni per poter arrivare ad avere dei prodotti, delle tecnologie sempre più attinenti a quello che a noi interessa. Quindi fondamentalmente qui andiamo verso quello che è la minima invasività e la massima efficacia in termini tecnologici di biomedicina. Quali sono i vantaggi che ovviamente ci può offrire, ci sta offrendo e ci potrà offrire ancora di più il mondo della tecnologia wireless applicato alla neuromodulazione? Fondamentalmente sono questi, cioè sono quelle riduzioni di fattori di rischio che noi invece abbiamo con la tecnica tradizionale, la quale tecnica tradizionale, sapete, prevede l'impianto di una batteria, quindi il confezionamento di una tasca chirurgica e che comunque espone certi tipi di pazienti che magari sono pazienti con problematiche coagulative, pazienti con maggiori fattori di rischio di tipo infettivo o ancora quelle complicanze che noi purtroppo talvolta vediamo che sono le migrazioni, quindi i dislocamenti degli elettrodi che noi posizioniamo. Sicuramente la tecnologia wireless in questo senso ci può venire incontro e può andare a incidere su questi fattori e di fatto quindi andare a ridurre l'impatto che eventi negativi di questo tipo possono avere sull'outcome del paziente e non ultimo anche sui costi, perché sapete benissimo che ciò che è costoso in mondo sanitario soprattutto è la complicanza. Se noi riusciamo ad abbattere in maniera importante tutte le complicanze delle nostre procedure, riusciamo ad avere sicuramente un risultato importante anche in termini di farmaco-economia in un certo senso, quindi andare ad allocare le nostre risorse economiche in maniera coerente e senza avere degli spendi non necessari che talvolta invece dobbiamo affrontare quando abbiamo le complicanze delle nostre procedure. Vedete quindi un sistema di neurostimolazione wireless è composto fondamentalmente da un elettrodo che può essere un elettrodo di tipo tradizionale nella parte dei terminali che vengono attivati con i catodi e gli anodi e che poi ha invece una circuiteria all'interno del filamento che vedete nell'immagine, una circuiteria la quale riceve dei segnali in microonde dall'esterno tramite un'antenna che viene applicata dal paziente al di sopra dell'acute, quindi completamente esterna al corpo, la quale trasmette, collegata chiaramente a un generatore portatile di energia, trasmette le microonde che arrivate a questa circuiteria che vedete nell'immagine radiografica, viene captata e trasformata in energia tale da poter dare poi vita a un campo elettrico a livello degli elettrodi. Il grosso vantaggio, quindi ribadendo anche così visivamente quello che state vedendo, è che l'accesso chirurgico del nostro impianto si limiterebbe a un accesso veramente di pochi millimetri. Una volta fatto un'incisione, una volta posizionato l'elettrodo all'interno dello spazio peridurale o nelle immediate vicinanze di un nervo periferico, se parliamo di stimolazione nervosa periferica, il sistema può essere poi ancorato a livello sottocutano da un sistema come quello che vedete nell'immagine, una sorta di iniettore di ancora siliconica che blocca l'elettrodo nel sottocute per evitare quindi il dislocamento del sistema. E quindi quello che poi alla fine residua della nostra procedura non sarà altro che veramente uno, al massimo due punti di sutura sulla cute e questo impatterà in maniera importante in quello che sono appunto l'abbattimento dei fattori di rischio del sistema. In queste immagini vedete l'ancora radiopaca che viene iniettata da quel sistema che avete visto nell'immagine precedente che quindi permette il fissaggio dell'elettrodo nel sottocute in modo che possa rimanere stabile per svolgere il suo lavoro fondamentale. Le procedure possono essere applicate quindi sia a livello midollare, sia a livello sottocutaneo, periferico, sul nervo periferico, possono essere applicati più elettrodi, le tecniche periferiche chiaramente vengono eseguite con tecnica ecografica e vedete oggi si stanno utilizzando anche, si stanno provando a utilizzare anche per gli impianti del ganglio dorsale, delle radici dorsali, sempre con la tecnologia che ci permette appunto di posizionare solo gli elettrodi senza dover collegare più la batteria al sistema erogante, il campo elettrico. Altri tipi di approcci che si stanno studiando. Considerate che è un campo molto in evoluzione perché siamo già arrivati alle terze generazioni di questi sistemi che stanno cercando di diventare sempre più performanti e anche dal punto di vista di vantaggio, il vantaggio è sicuramente molto importante quando si pensa per esempio agli impianti nelle zone estremamente periferiche del nostro corpo, vale a dire a livello delle estremità degli arti superiori o degli arti inferiori, per esempio negli stimolatori del nervo tibiale posteriore, a livello della caviglia, dove chiaramente è molto piacevole avere un filo di pochi centimetri piuttosto che un impianto con batteria che può portare a delle problematiche di decubito e anche di impianto chirurgico. Lo stesso vale per tutta la zona del cranio, per esempio i vantaggi di avere un elettrodo wireless sono indubbi perché soltanto la stimolazione del nervo grande occipitale piuttosto che altre zone come quello trigeminale chiaramente è un vantaggio sicuramente importante. Quindi oggi si sta andando verso anche il campo della stimolazione periferica in questa direzione e il futuro sicuramente ci porterà ancora grosse, grosse novità. C'è un futuro poi che probabilmente non sarà domani ma sarà ancora più lontano, però credo che sia bello in questo scorcio di visuale sui 50 anni di storia della neurostimolazione pensare a quello che potrà essere ancora la stimolazione fra molti anni o forse nemmeno così tanti, questo ancora non siamo in grado di capire quando, però la ricerca sta andando avanti e oggi ci sono dei centri come quello dell'Università di Pisa che sta lavorando intorno a sistemi biomedicali che sono in grado, l'obiettivo è quello che siano in grado a un certo punto di produrre energia direttamente dal corpo umano. Tutto questo si sta muovendo grazie alla frontiera delle nanotecnologie del silicio. se pensate che c'è la possibilità di avere 10 milioni di filamenti di silicio su un millimetro, solo su un millimetro quadrato di un terminale e che questi sistemi sono in grado di fatto di poter produrre delle energie dalla temperatura del corpo umano, pensate gli sviluppi che potrebbero esserci in futuro. L'idea è proprio quella di pensare a un domani, a un futuro della neuromodulazione dove non solo potremo fare a meno delle batterie impiantate nel corpo, non solo potremo fare a meno magari della tecnologia wireless che noi stiamo cominciando ad utilizzare oggi, ma perché no, in futuro potremmo pensare di avere delle energie che si auto-rigenerano direttamente all'interno del nostro corpo grazie a delle microsistemi, di micro nanotecnologie che grazie a questo, diciamo, lo sviluppo che la scienza ci sta mettendo di fronte potrebbero rappresentare la frontiera del prossimo mondo della neuromodulazione impiantabile, della neuromodulazione in generale. Quindi ecco, questo è stato un pochino un percorso che abbiamo fatto insieme, un percorso in questi 50 anni che ci separano dai nostri colleghi da Merzac-Wall, dall'idea di come applicare una corrente sulla catena neuronale possa in qualche maniera andare a modulare il segnale del dolore cronico. 50 anni che quindi hanno visto lo sviluppo grazie anche alle aziende che si sono rese molto interessate in questo settore e hanno sviluppato device, hanno sviluppato tecnologia in maniera anche esponenzialmente rapida soprattutto in questi ultimissimi anni e una curva che comunque non si arresta, una curva che sta salendo sempre di più e che quindi io credo nel futuro in un futuro magari nemmeno troppo lontano potrà farci vedere delle soluzioni alle quali oggi a malapena riusciamo a intravedere e capire quelli che potranno essere in futuro il diciamo la storia della neuromodulazione quindi questo è che è stato la prima passeggiata se volete di questa sera in questo mondo che ci contraddistingue in questo mondo che noi tutti i giorni all'interno del quale viviamo nei nostri ambulatori nelle nostre sale operatori vedremo quindi nelle prossime incontri anche tematiche sempre del campo della neuromodulazione in maniera più specifica come vi dicevo prima sulle varie tecnologie e le varie modalità di erogazione dei campi e quant'altro poi nei mesi successivi affronteremo anche altre tematiche inerenti alla terapia del dolore dal punto di vista anche farmacologico ed altro a questo punto vi ribadisco l'invito a diffondere ovviamente quello che è l'obiettivo poi del nostro congresso nazionale del prossimo anno a Milano per quanto riguarda la giornata federdolore giovani poi vi invito anche da subito a stimolare quello che possono essere produzioni scientifiche perché noi daremo molto spazio anche alle comunicazioni quindi molti giovani potranno cominciare a preparare produzioni alle quali daremo daremo la possibilità di condividere con tutti i soci di Federdolore e con tutte le persone che vorranno partecipare a questo punto un carissimo saluto a tutti come sempre la serata verrà postata sul canale YouTube di Federdolore nei prossimi giorni in modo che potrà essere visualizzata anche da chi questa sera non aveva la possibilità di collegarsi in diretta come voi e un carissimo saluto di nuovo a tutti buona serata e al prossimo collegamento grazie a tutti